Arrivati a Suratani. Io sono una dai gusti forti. Ciao a tutti. Ho chiesto ai signori se si poteva andare a Kopangan. Faccio a Kopangan, faccio a Kopangan, faccio a tutti i giorni e 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 faccio a tutti i giorni. E arriva dopo sei ore, quindi alle cinque della mattina e si può insomma dormire lì sulla barca. Poi mi ha chiesto da dove venivamo, ho detto dall'Italia e mi ha detto che non c'era mai stato, però era stato... in Francia, in Inghilterra, è perché ha il fratello che è poliziotto. In futuro faranno un ponte da qui a Koh Samui, però non sa in un futuro ha detto l'antano, un po' come il nostro ponte sulla Sicilia, probabilmente non lo so. E quindi ho detto ma fra quanti anni è? Non lo so, non lo so neanche io, ha detto così un po' ridendo. Poi mi ha detto che... non mi ricordo. Eccolo, eccolo, ecco il risciolo. Non se ne vedono più tanti. E sono anni che non ne vedo più. A Franco lì si sono rotte le scarpe, le ciabatte, solo che il paio in rete è scuro ed è l'una del pomeriggio, l'una, le due. E non ce la fa più, ha trovato uno scollo di non so che cosa. No, è l'acqua dell'irrigazione. No, è l'acqua dell'irrigazione. Si è messa qui, non si vuole più spostare. Isto devo attraversare la strada. Madonna, come fai? Come faccio, vai? Ti do i miei calzini. No, non, e ti diede, ti andavo. Scatta. Scatta. Intanto dei miei calzini. No, ma no, ma no, dai. No? No. L'avventura, l'avventura. Che giorno siete nati? Ve lo siete mai chiesto? Ma non il giorno in numero, proprio il giorno, un lunedì, un giovedì, un venerdì. Qui in Thailandia è molto importante perché quando vai nei vat, insomma, in chiesa, no? A pregare, a pregare per qualsiasi cosa, qui si prega non soltanto per... Eh, no, l'alligione è molto diversa, non addentriamoci, comunque sì, qua si dà un'offerta un po' per tutti i giorni della settimana, però nel giorno del tuo compleanno, ad esempio io sono nata, sono nata a vedere su Inter, il 6 febbraio del 1974, era un mercoledì. Bisogna mettere tutta la manciata di monete. Dì che l'hai fatta l'offerta. Ah, non l'abbiamo ripresa? No. Uff, abbiamo fatto un'offerta, non l'abbiamo ripresa, vabbè. Prendi questa e cominci a metterne uno per parte. One a te, domenica. Prendo la manciata. One foot. Prendi questa e cominci a metterne uno per parte. Allora, il mercoledì è diviso in mercoledì di giorno o il mercoledì di notte. Quindi io sono nata di giorno, alle sette e mezza della mattina, quindi l'ho messo giusto senza saperlo. Questo, questo è presagio di fortuna. Aspetta, aspetta, perché è vero, anche questa cosa qui è importante da dire. Ogni giorno della settimana ha un suo Buddha. Mi raccomando, in Thailandia non toccate mai la testa delle statue dei Buddha. Schifo di padre a tutti, anche se non siego. Queste bancarelle, qui, vendono i fiori. Questo è il fiore del loto. e si danno tutte in offerta nei wak al buddha, oppure come si appendono alla macchina, un po' cose emotive, no? tra l'altro ce ne sono alcuni profumati no, questo non profuma 5, 10 vuole? non vuole non vuole non vuole non vuole non vuole grazie grazie questo è l'urium non non è l'urium 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 più asciutto, meno acquoso guarda che bambini frutta si chiama chompu che vuol dire rosa non è super saporito ma a me piace molto perché è molto fresco, succoso è un po' dolce ma non troppo sa forse di una mela molto succosa ma ha un po' asprina e dolce ma dei gambaretti secchi come si chiamano i gambaretti? kun kun sono tantissimi dal minuscolo più piccolo a quello più grande e si mettono nella sam tam insomma in tanti piatti ed hanno quel senso di umami sono quelli che abbiamo visto a cocut che la signora stendeva sulle reti per fare essiccare si esatto guarda qui quanti anche thank you one cioè metà thank you one mi sono fatta spiegare tutti i curry che ha alcuni li conoscevo perché poi sono quelli che uso io a casa quando cucino thailandese soltanto che ce ne sono un mucchio che non conosco li vorrei provare quando sono al ristorante non è che c'è scritto magari questo tipo di curry qua sono cose che si fanno a casa ci sono alcuni piatti che si mangiano al ristorante come da noi e altri che trovi soltanto in casa quindi dovrei riuscire ad andare in una casa thailandese con una meban cioè una casalinga thailandese che cucina e farmi insegnare perché ho fatto un sacco di corsi di cucina in thailandese però sono scuole di cucina diverse bisogna proprio andare a casa delle persone ciao 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 è il nostro insieme no piace non piace non è sono una prêtia no sì voglio farla è facile sì mi piace molto Siamo capitate in questo mercato bellissimo per sbaglio è colorato la gente stra simpatica e secevole non verrebbe voglia soltanto di avere una casa per avere una cucina per poter cucinare venire qui a comprare io 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 quando vedo quando vedo questi mercati qui proprio sono la donna più felice del mondo mi piacciono troppo mi piace un casino comprerei tutto tutto comprerei per assaggiare per per vorrei pronti per prendere il traghetto verso goth pangan ci hanno fatto cambiare 800 autobus adesso finalmente siamo arrivati sul molo dovremmo farcela a prendere il traghetto controllo biglietti ed ecco questo è il nostro traghetto c'è anche un mini market qua dentro fantastico vuoi un gelato? il magnum addirittura vada per il magnum queste sono le zattere di salvataggio ragazzi c'è da sperare di non naufragare arrivati ecco abbiamo scelto uno dei bungalow più reconditi lontani dal dal centro turistico della dell'isola e qui c'è giungla fitta su e giù questo corre come un matto siamo in un mezzo alla giungla si prende sempre la valigia più piccola tutto il giorno per arrivarci che bella bellissima ragazzi è questo è l'animale da compagnia ragazzi ok ok and kitchen we open 7 in morning two channel call in the night courts antarai rupao my enterai meccatla my god my god and coffee all tea is 30 baht for one cup you make yourself you import water and coffee Do you understand? Bellissimo posto, poi vi dirò come si chiama e perché l'abbiamo scelto Allora come come scusante mi ha detto ma no no non può portarla lei così è uno scricciolina voi non sapete è la metà di me e si sta portando questa borsa che è pesantissima in testa ha detto no ma è birmana Molto sauvage, molto sauvage bambini alla prossima è sistema per il terreno all' contracorri all'azionato l'azionato le città sono rimane passata che è fuori bellissima ah come buon miarai mi perché dice che si va su suoi suoi ma molto carino molto carino guarda che roba io vengo a vivere qua tu vuoi venire a vivere qua con me? si guarda che c'è un costinetto privato dai ci sono i gradini lì fantastico è bellissimo se fosse il tramonto è giù costava 2.000 baht in più beh per oggi è tutti adesso ci dedichiamo qui alla nostra Anymoon e alla birretta ma ti sei già preso la birretta? no però ci vado we have marijuana hai visto we have marijuana l'ho inquadrato una canna una birra che sta a fare una canna bello il tetto è sfondato bello bello con la roccia fantastico buongiorno Franco dice che non sono uno spettacolo e che mi dovrei mettere un attimo a posto prima di riprendermi volevo aprire le tende e guardare com'è e guardare com'è tadaaa e da Maiferrai Bangalop è tutto buona onda lì 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 lì